Curva dei contagi risalita nella provincia Bat, dove il bollettino epidemiologico regionale fa registrare 30 nuovi casi di coronavirus, il dato più alto da quando è iniziata la seconda ondata della pandemia. Una crescita determinata dal focolaio sviluppatosi tra i dipendenti comunali di Andria. In 15 sono risultati positivi al Covid, ma è ancora in corso la verifica degli oltre 150 tamponi effettuati al personale degli uffici. Tra i contagiati anche il commissario prefettizio Gaetano Tufariello, che ieri ha prolungato la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali anche per la giornata di oggi, ad esclusione degli uffici elettorali, dello Stato civile e dell'anagrafe. Con il personale ridotto e le misure di sicurezza rigidamente applicate, la macchina comunale si sta riorganizzando anche per gestire la delicata fase del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. La situazione è costantemente monitorata dalla prefettura. Gli altri contagi registrati nel bollettino di oggi si riferiscono a contatti stretti di persone e risultate positive nei giorni scorsi. Come è noto, le città di Andria e Barletta hanno superato da tempo i 50 casi di coronavirus attualmente aperti. A Biceglie la soglia dei 50 contagi è ormai vicina, dopo il focolaio sviluppatosi tra i partecipanti ad una gita in Pullman. A Trani il dato aggiornato indica 11 persone attualmente positive al Covid dopo le sei guarigioni degli scorsi giorni. A Trinitapoli raggiunta quota 14 casi. Una buona notizia arriva invece da San Ferdinando di Puglia. Ieri il sindaco Puttilli ha annunciato che dopo la guarigione dell'ultimo positivo il comune è diventato Covid-free.